Buonasera dal Motor Show di Bologna, siamo per assistere alla prima semifinale, quella tra i due più amati piloti del rally internazionale, tra Marco Allen e Mickey Biasion. Biasion si è imposto nella prima delle due manche di semifinale, adesso vediamo quali sarà il risultato, eventualmente verrà disputata una terza manche, ma vediamo intanto come si svolge la gara tra questi due protagonisti. Nel caso di Biasion sulla lancia delta integrale, come vedete è montata anche la telecamera all'interno che diretta dal registro Roberto Gambutti ci proporrà alcune immagini della corso. Sperate il contagiri della vettura, mentre ecco che partono nella prima mancia a Biasion si è rimposto in 1,58 e 74 contro 1,59 e 31 di Allen. Come sapete il percorso dell'area 48 del Motor Show per quel che riguarda le gare di vetture rally, è per metà sterrato, per metà asfalto, con leggera prevalenza dell'asfalto, almeno secondo la scelta dei pneumatici. Vedete in azione alternativamente l'uno e l'altro, mentre sta correndo il tempo e nel riquadro abbiamo in diretta, in contemporanea quindi la guida di Biasion di cui vediamo la vettura, mentre sta impegnandosi nel tratto più difficile, quello col ponte, successiva discesa in contro pendenza e contro sterzo per poi affrontare il tratto in asfalto. Sappiamo Biasion in vantaggio, adesso dovrebbe essere leggermente forse in vantaggio, no no, è ancora apertissimo, differenza due centesimi di secondo a svantaggio di Biasion, praticamente un'inezia e adesso vediamo che cosa succede in questo tratto, il percorso non si può considerare simmetrico, quindi è difficile fare confronti. Vediamo che cosa succederà in questo secondo giro. Le semifinali si disponono su due manche di due giri ciascuna a posizioni invertite. In caso di parità di vettori verrà dichiarato vincitore il conduttore che avrà impiegato il minor tempo in una delle due mancia. Momenti di tensione, siamo alle fasi conclusive, gran sbandata di Allen. Attenzione, si impone Allen in 1'59'09 con una differenza di 10 centesimi di secondo a vantaggio rispetto a Biasion.